Un saluto dal Tg della mobilità, Atac ha predisposto un sito specifico rimborsimetrobuscovid.atac.roma.it dove i clienti potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili per accedere ai rimborsi degli abbonamenti pagati e non usufruiti durante il periodo delle chiusure per l'emergenza Covid. I rimborsi consisteranno nel prolungamento dell'abbonamento per il periodo riconosciuto dalle norme, ovvero nel rilascio di un voucher. La richiesta per il rimborso potrà essere effettuata esclusivamente dopo la registrazione nell'area personale MyAtac. Potrà essere presentata sino al 30 settembre 2020. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.